Le frodi e le sofisticazioni colpiscono sempre più il settore agroalimentare, per questo occorre valorizzare il Made in Basilicata. A sostenere il consigliere del Movimento 5 Stelle Leggeri in occasione della giornata mondiale della sicurezza del cibo. Ultimamente, dichiara, è aumentata la consapevolezza nei confronti della salute alimentare sia nei cittadini sia nei produttori, garantendo così la produzione e il consumo di prodotti di qualità. Sulle nostre tavole arrivano prodotti provenienti anche da paesi la cui legislazione in materia non è così severa come in Italia. Il potenziamento dei controlli e la valorizzazione dei prodotti di qualità a chilometro zero andranno a stabilire quel legame fra territorio e consuetudini alimentari, rafforzando il ruolo e l'identità delle comunità locali. In materia di sicurezza alimentare, la regione Basilicata, con l'approvazione della legge numero 27 del 2008, successivamente modificata ed integrata, conclude Leggeri, ha istituito presso i vari comuni i centri di educazione e sicurezza alimentare, che si avvalgono della consulenza scientifica dell'Università degli Studi della Basilicata e di altri istituti scientifici. Spetta poi a ciascun cittadino o consumatore riconoscere i rischi alimentari e assumere comportamenti adeguati.